andiamo proviamo 2, 5, 1, 2, 3 vai, 2, 5, 1, 2, 3, vai vai questa roba, roba insomma ragazzi, vai vai, l'accendino 1, 2, 3 3, 3, 4, 3. quindi declio 1, 2, 3, 4 Sì, che ho visto così molte volte A jazza in no place like home Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.